E oggi cari amici torniamo nella serie di Ice Cream per scoprire nuovi segreti in arrivo su Ice Cream 8 Tenetevi pronti perché oggi ho qui per voi delle novità ufficiali Ebbene sì, il gioco di Evil, Nand, Broke & Musk ha ricevuto un nuovo aggiornamento Dove hanno introdotto delle lettere segrete per Rod Andiamo subito a scoprire insieme tutte quante le novità Ma prima di partire lasciate qui sotto tantissimi like Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale con la campanella attiva E fatemi sapere qui sotto nei commenti chi preferite fra Rod e Sister Madeline Partiamo subito, si comincia! Ma direi anche di mettere la lingua italiana, a sto giro ci serve l'italiano Perché dobbiamo leggere alcune cosette, anzi dobbiamo vedere delle cose Innanzitutto finalmente sappiamo che cosa è successo nei quattro anni di vita In cui Rod è proprio cresciuto con Sister Madeline Finalmente sappiamo che cosa è accaduto e il perché gliel'hanno portato via Vabbè possiamo schippare pure questo filmato, andiamo subito qua in partita E siamo qua all'interno del laboratorio del nostro caro Roddino Allora, quello che andremo a vedere fra poco sui Volnandi Broken Mask Sarà strettamente collegato con quello che stiamo per vedere e con il finale di Ice Cream 7 Quindi comunque come dicevo prima sono novità che poi andranno anche su Ice Cream 8 Quindi per prima cosa usciamo qui fuori, prendiamo la sfera blu Sì, vai di corsa, andiamo di qua così ci riusciamo subito Via, via, via da questo postaccio, da questo brutto labirinto Che secondo me è anche puzzolente Non so, a me quando vedo sto labirinto mi viene proprio la puzza Mi immedesimo qua Ma buonasera Miniroddino, buonasera Chissà se un giorno scoprirò che cervello hai lì dentro Chissà, forse lui ha un cervello da criceto Un cervello da scimmia Chi lo sa, magari in futuro anche noi potremo costruire dei Minirod qua all'interno del gioco Forse su Ice Cream United sarebbe bello tipo poter craftare Minirod da lanciare contro Rod Ok, apriamo qua la porticina e intanto Minirod è sparito Come al solito sto Minirod se ne va sempre via O è andato ad avvisare Rod oppure se ne è andato in bagno Ma non credo se è andato in bagno perché il Minirod che va in bagno Cosa deve fare che un robot non può andare in bagno Adesso qua ci sarebbe da fare la cosa con Charlie Ma io stavolta la salto La salto perché, sono sincero, sta parte di Charlie non mi piace Non mi piace come l'hanno fatta Cioè mi obbligano per forza a fare sto giro in città con Rod Soltanto magari per vedere una cosetta Cioè, seriamente, io voglio andare di qua per leggere il libro Devo per forza farmi la parte in città con Rod Quindi adesso partiamo qua Guardate molto bene questo libro Perché fra poco lo rivedremo, proprio questo stesso libro Ok, qua parla appunto 21 novembre 1943 E un maschio, non quello che mi aspettavo Qualche settimana fa nella biblioteca segreta della scuola Ho trovato un libro di bafometto che assomigliava molto a quell'entità magica Che sarebbe Nasrat Ho ricordi di quell'evento un po' nebbiati E sto cominciando a notare che la mia pelle sta diventando sempre più bianca E i miei denti si stanno storcendo, stortando Sto facendo qualcosa di sbagliato Trovere un incantesimo qui in giro Per fare in modo che il corpo del mio bambino sia quello di lei Vi ricordate il patto di Nasrat? Se di Sterbatale non fosse stata una madre esemplare per tutti Sarebbe diventata brutta E a quanto pare qui abbiamo la conferma Lei non è stata una madre esemplare A quanto pare ha fatto qualcosa di brutto a Rod E in questo modo lei è diventata sempre più brutta Ma andiamo sempre avanti Andiamo sempre di qua Quindi togli sta grata Muoviamoci Quindi vai 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 Muoviti 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 Ci andiamo dall'altro lato Con la speranza di non buggarmi Ok non mi son buggato Ma dobbiamo andare dietro quella porta Per fortuna c'è questo bug Che ci fa volatilizzare Anzi ci fa comparire Mike E non ci stanno neanche i mini rod Quindi a posto Ci possiamo girare tranquillamente senza problemi Ok E andiamo subito qua da questo lato Perfetto Non c'è nessuno Quindi apri qui la porticina Ok Andiamo di qua Finalmente sappiamo qualcosina in più di questo ricordo Innanzitutto qua parla appunto di Rod No Di questo vestito rosa Sister Madeline infatti cresceva a Rod Come se fosse Elisa La sua prima figlia C'è la mia bellissima bambina C'è una bellissima ragazza Elisa Elisa E invece no È Rod Perché? Ma Sister Madeline Mi ricordo Un sacco di donne alte Vestito di nero In una stanza molto grande Tutta in rosa Quella stanza rosa sarebbe la stanza del minigioco Che fra poco rivedremo Sivonante Broker Musk Chi è mia mamma? È lei Quella bellissima donna O un'altra cosa? Ma presto quella bellissima donna Si trasformerà Anzi si è già trasformata Guardate qua Con i denti tutti storti Il viso pallido Ma soprattutto gli occhi Che cominciano ad illuminarsi Di rosso Eh sì La sua retta non ha rispettato Il patto di Nazareth Queste sono state le conseguenze Cara sua retta E mi dispiace per te Però se tu fossi stata Un'amorevole madre Adesso non sarebbe successo Tutto ciò Allora rendiamoci conto Se Elisa non fosse morta Non ci sarebbe stato nulla Di questa storia Innanzitutto Non ci sarebbe stata La storia di Evil Nan Perché la sua retta Sarebbe cresciuta con Elisa E avrebbe continuato La sua vita Tranquilla Non ci sarebbe stata Neanche la storia Di Mr. Meat Perché sappiamo Che Mr. Meat Era un bambino Che è stato rinchiuso Nella lavanderia Della sua ora E non ci sarebbe stata Neanche la storia Di Ice Cream Perché giustamente Se Elisa era viva Non sarebbe nato Rod No? Che poi Rod È la reincarnazione Di Elisa Quindi Vabbè E qui c'è tutta quanta Una trama Veramente assurda Si ci potrebbe fare Tipo Non un film Non una trilogia Ma direttamente Un colossal Va bene Ma adesso direi di passare Al nuovo aggiornamento Di Volnande Broken Mask Dove ci sono le novità Ufficiali Di Ice Cream 8 Ed eccoci qua Su I Volnande Broken Mask Allora direi anzitutto Di mettere la lingua italiana Perché tanto qua Non sto facendo il video Per il canale inglese Quindi Possiamo giocare tranquillamente In italiano Vai Tocchiamo a continuo E si va In partita Nel canale inglese Sto portando praticamente Questo gioco Tutti i giorni Sto facendo una grande serie Che persino Youtuber Da milioni di iscritti Me l'hanno apprezzata Me l'hanno apprezzata Me l'hanno detto Che è una delle miglior serie Di Volnande Broken Mask A livello mondiale E mi dispiace Che qui in Italia Purtroppo La serie non abbia avuto successo Mi è dispiaciuto veramente un sacco Avrei voluto portare Tanti video Su questo gioco Potevamo fare Tante belle cose Però purtroppo Niente In Italia In Italia piace Stumbleguise Gli italiani preferiscono Stumbleguise Quindi Lo devo accettare Vabbè Aspettiamo qui Che si avvia la partita Ok Sono per YouTube Se ti piace Horror e divertimento Sei nel canale giusto Sì perché qua Io faccio video Sempre horror Tutti i giorni Adesso Per prima cosa Dobbiamo trovare Il fusibile In modo da poter accedere Nelle zone Esterne Della Non della fabbrica Ma della scuola Quindi Fusibile Dove sei Non state qua Vediamo qua dentro E niente Ah si trovato Perfetto A posto Andiamo subito A mettere Facendo attenzione A non far rumore Ma tanto Comunque la sua rappera Smette di pregare Viene qua Mi viene a prendere Togli qua Uno Due Metti qua dentro Tira la leva E andiamocene subito Via Tra l'altro Recentemente Sono pure usciti I capitoli Del rituale E del labirinto Nel canale inglese Ci ho portato i video Qui in Italia Purtroppo Non li ho portati Perché So che qua In Italia Non interessa Sto gioco Però so che vi interessano I segreti Che si collegano Con Rod E adesso ve li faccio vedere Subito Ci sono ben tre lettere Nascoste All'interno di questa Mappa E adesso ve le faccio vedere Sono tre lettere Che la sua retta Aveva scritto Per Rod Ma che poi Non ha più mandato Almeno alcune le ha spedite Altri invece no Leggiamo la prima lettera Che si trova qua All'interno Della sala Studio Perfetto Chiudi la porta Leggiamo qui Adesso Mio amato figlio Sono tua madre Spero che questa lettera Ti recchi conforto Ora che stai soffrendo Per la morte di Joseph Forse sarai sorpreso Del fatto che io ti scrivo Per la prima volta Ma so che il primo gennaio Di quest'anno 1955 È il tuo quindicesimo Compleanno Malgrado io non posso Essere con te Sappi che ti penso E ti mando tutto il mio amore Prego per il giorno In cui potremmo essere Di nuovo insieme Come vedi Ho accettato il fatto Che tu sia cresciuto ormai Riconosco di non averti trattato Come meritavi Per molti anni Spero che tu possa perdonarmi E che tornerai presto da me Ti aspetterò qui Alla High School Junior High School Washington USA Ebbene sì Quindi qui abbiamo la conferma Che Sister Maddalene Non ha trattato bene Suo figlio No Non l'ha trattato bene Ed è per questo motivo Che l'è diventata brutta In quel modo E soprattutto Anche per questo motivo Qualcuno ha portato via Rod Dalla sua retta Per dare un affidamento A Giuseppino Ma chissà Proseguiamo Perché ci sono altre cose nascoste Suora però è qui vicino Perché la sento Sento il suo canto Quindi è qui Nelle vicinanze Per prima cosa Andiamo di qua Mamma mia Suora Eh ciao Via 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 Dobbiamo entrare dentro quella porta Che ho aperto Praticamente di là C'è l'ufficio di Sister Maddalene E lì dentro ci sono due lettere nascoste Adesso le andiamo a leggere tutte Quante Via Di corsa Questa è una zona nuova Che è stata introdotta Con l'ultimo aggiornamento Ed è proprio qui da queste parti Che c'è la stanza Per fare il rituale Adesso Se noi andiamo di qua Possiamo leggere Che ci sono due uffici C'è l'ufficio di Sister Enda E l'ufficio di Sister Maddalene Andiamo subito qua Chiudi la porta Ecco qua Leggiamo queste due lettere Lettera numero uno Figlio mio Ti scrivo questa lettera Con il cuore grave In 1958 Appena cominciato Mi sono resa conto Che ne sono passati troppi Dall'ultima volta che ti ho visto Il dolore della nostra separazione È quasi insopportabile Prego per la tua incolumità E per la tua salute Ogni giorno A dispetto di ciò Voglio disperatamente rivederti E mi aggrappa la speranza Che il mio filtro magico Che rende ogni cosa deliziosa Sarà la chiave Che ti riporterà da me Molte anni fa La mia formula fu rubata E siete seguito Ad una serie di eventi Che portarono Alla nostra separazione Ma ora che è stata migliorata È più preziosa che mai Non ti piacerebbe averla Sono certa che Joseph Non ti abbia mai raccontato La storia della nostra separazione Quell'uomo Non era così buono Come credi E forse la sua re è entrata Qua dentro Perché ho sentito una porta Quindi allora Abbiamo la conferma Joseph Sullivan A quanto pare Non era buono Come si pensava Coder si è portato via Rod Chissà A quanto pare Il motivo è stata questa formula Quindi la formula Che aveva creato la sua retta Retteva deliziosa Ogni singola cosa Joseph Sullivan L'ha rubata E dopodiché E ora abbiamo scoperto Perché è diventato Un gelataio famoso Perché lui Utiliseva questa formula E tutti i suoi gelati Diventavano buonissimi Molto molto interessante Sta cosa Intanto io vedo Se qui la sua Ancora nelle vicinanze No non sta di qua Non posso neanche Vedere dietro il muro Se sta qui vicino Vabbè Andiamo a leggere L'altra lettera Quella che si trova di qua Con la speranza Che Sister Madeline Non venga Ok Mio amato figlio Ti scrivo questa lettera Colma di apprezzione E timore Per la tua incolumità Batte forte Il cuore Al pensiero di non sapere Dove tu sia Nel tuo diciassettesimo Compleanno Ma in mezzo a tutto questo dolore Ho trovato un raggio di speranza Nella mia ricerca Per il filtro magico Che rende tutto delizioso Sto cercando di scoprire Nuovi utilizzi Per esempio Migliorare la vitalità Delle piante Nel giardino della scuola Curare le malattie Degli animali Nella piccola fattoria O aumentare il loro peso Dipende tutto Dalle dose degli ingredienti utilizzati Ti prego Torna presto Ecco qua La sua retta qui Stava già sviluppando La formula Quindi allora Joseph Sullivan Ha rubato la formula Di Sister Madeline Ma dopodichè Rod ne ha ricevuto Un'altra ancora Migliore Ecco Da parte di sua madre Come abbiamo visto Nei filmati Di Ice Cream 3 Ecco qua Quindi abbiamo scoperto Tante belle cose Cioè veramente Sto gioco collega Mr. Meat Ice Cream Tanti segreti Oh bene dai Io direi che per il momento Posso venire qua al video Fatemi sapere qui sotto I commenti cosa ne pensate Spero che questo video Si è piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spoliciate Così vedete Iscrivete al canale Con la campanella Tiva L'avventura non finisce qua Perché qui davanti a voi Compariranno ben 4 schede Con 4 serie differenti Cliccatele una buona visione E ci vediamo direttamente In una di quelle serie Ciao a tutti Buon parito a tutti